Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato almeno a chi ha più di 60 anni e ad alcune categorie di lavoratori, via libera alla terza dose per chi ha più di 12 anni, nuove regole per lo smart working e il pacchetto di misure che il governo potrebbe varare oggi al termine del confronto con i presidenti di regione e dopo aver trovato l'accordo tra i partiti per far fronte a un'ondata pandemica che ancora non è arrivata al suo picco ed evitare l'affanno per strutture sanitarie e terapie intensive. Sul tavolo rimane l'ipotesi di imporre il Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori, ma la mediazione tra le parti potrebbe portare a scegliere solo determinate categorie. Le più papabili sono gli allenatori delle squadre sportive e chi lavora nelle palestre e nei circoli, alcuni dipendenti che hanno contatti con il pubblico, gli altri lavoratori che hanno contatto diretto con le categorie più fragili. Per i dipendenti della pubblica amministrazione emerse alcune criticità, ancora presto per dire se saranno coinvolti anche loro. Green Pass è obbligatorio per chi ha più di 60 anni ma la soglia potrebbe abbassarsi anche ai 50. Da 10 gennaio i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno prenotare la terza dose, mentre fino al 31 marzo l'idea è di continuare a favorire lo smart working sia nel pubblico che nel privato. Si torna a scuola in presenza. È quanto comunicato ieri da Palazzo Chigi al presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Federiga. Tensione tra governatori ed esecutivo con i primi che chiedono garanzie al CTS. Dai presidenti di regione infatti arrivano diverse proposte come la divisione degli studenti in tre fasce d'età in base al rischio Under 6, 6-12 e Over 12 e la revisione alzando i limiti e semplificandone le procedure della quarantena post contagio in classe. Ora la palla passa al comitato tecnico scientifico che dovrà dare una risposta a quanto prima. L'obiettivo comune è quello di non aumentare i focolai nelle aule. Salgono i contagi da Covid-19 in Italia. Secondo l'ultimo volettino diramato dal Ministero della Salute sono 170.844 i nuovi casi positivi e 259 i decessi. Si tratta del numero di contagi più alto registrato dall'inizio dell'epidemia in Italia. Nelle ultime 24 ore bondi tamponi processati 1.228.410 test sul territorio nazionale. Il tasso di positività si attesta sul 13,9%. Sul fronte della pressione ospedaliera si registra un aumento di 41 unità in terapia intensiva per un totale di 1.392 pazienti ricoverati attualmente. In salita anche i ricoveri in area non critica che aumentano di 579 unità. In Puglia sono invece 3.670 nuovi casi e 5 le persone decedute. Processati 93.498 test, 343 i nuovi contagi nella provincia di Taranto. Attualmente sono 36.723 le persone positive, 334 ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva. Aumenta l'occupazione di posti letto di pazienti positivi al Covid-19 negli ospedali pugliesi, a segnalarlo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il tasso di occupazione è aumentato dal 6 al 7% nelle terapie intensive, dal 10 all'11% in area non critica. L'incidenza dei contagi scende dall'11,5% al 3,9% rivelando un incremento modesto di casi positivi al coronavirus. Intanto prosegue la campagna vaccinale pugliese. Sono 40.000 le somministrazioni di vaccino anti-Covid nella fascia pediatrica 5-11 anni, con una copertura del 16,69%, che pone la regione in cima alla classifica nazionale per vaccinazioni in questa fascia. Hanno confermato quanto già sostenuto dinanzi alla procura nei giorni scorsi i due imprenditori agli arresti domiciliari per corruzione dal 26 dicembre, nell'ambito dell'indagine sul tangente all'ex capo della protezione civile regionale Mario Lerario. Quest'ultimo in carcere dal 23 dicembre è arrestato in flagranza dopo aver intascato una mazzetta da 10.000 euro. Il primo ad essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia è stato Luca Leccese di Foggia, il quale ha confermato di aver consegnato all'erario una mazzetta da 10.000 euro, un regalo natalizio come ringraziamento per un appalto da 2.500.000 euro relativo ai lavori al cara di borgo Benzanone di Foggia che la sua società aveva ottenuto. Anche l'altro imprenditore arrestato Donato Motto l'ha confermato di aver consegnato una mazzetta da 20.000 euro all'ex dirigente per un debito di riconoscenza. Ha poi precisato di non aver con l'erario alcun accordo preventivo. È stato affisso in Viale Magna Grecia, angolo corso Italia Taranto, un grande manifesto che ritrae una befana cattiva che plana a terra davanti agli occhi increduli e terrorizzati di alcuni bambini. Con sé non porta le tradizionali caramelle ma un sacco carico di cenere e carbone e arriva in sella a una ciminiera fumante e non su una scopa. Sullo sfondo gli alto forni del siderurgico tarantino, le coperture dei parchi minerari e un cielo scuro velato dalle polveri che offusca il ponte girevole, uno dei simboli di Taranto. La grafica è di Leonardo Zazza. Il manifesto è stato fatto affiggere dal Comitato Cittadino Salute Ambiente, cui aderiscono diverse associazioni ambientaliste per richiamare ancora una volta l'attenzione sull'emergenza ambientale sanitaria a Taranto e protestare contro alcune iniziative da parte del governo e della stessa azienda, che ora vede anche la presenza dello Stato nella compagine societaria. Sul manifesto campeggia la scritta l'epifania di sempre per i tarantini, cenere e carbon coke. Abbiamo scoperto in maniera assolutamente casuale che Acerie d'Italia ha richiesto al Ministero della Transizione Ecologica una rivisitazione, chiamiamola così, della valutazione danno sanitario. Attualmente c'è una valutazione danno sanitario che accerta un rischio cancerogeno inaccettabile per la popolazione del quartiere Tamburi. Tutto questo non va bene ad Acerie d'Italia, che ha dato incarico ad un gruppo di studiosi perché venga smontata la valutazione danno sanitario, sono stati ravvisati a loro parere dei difetti. Noi riteniamo invece che la valutazione danno sanitario in maniera imparziale abbia acclarato che a Taranto c'è un rischio cancerogeno inaccettabile. Riteniamo che la Procura della Repubblica debba considerare questo un fatto molto grave e degno di accertamento. 784 progetti di rigenerazione urbana a favore di 483 comuni italiani a stanziare di intervento il governo che destina 19 progetti ai comuni del Tarantino. Lo scopo è quello di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale. Ancora un'altra misura in favore dei comuni fortemente volute del governo Conte II, ha commentato il senatore Mario Turco e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, capace in piena pandemia, giunge di programmare queste importanti risorse. Andato di scena ieri pomeriggio nella parrocchia di San Giuseppe in via Garibaldi a Taranto, l'evento Il pallone della speranza alla Befana scende in campo, iniziativa benefica in favore dei bambini dell'oratorio diffuso della parrocchia San Cataldo. A organizzare la manifestazione Maria Teresa Trenta, appoggiata anche dalla società e dai giocatori del Taranto Calcio, ieri presenti nelle figure del DS Francesco Montervino, del tecnico La Terza e di alcuni atleti come Marsiglio e Giovinco. L'obiettivo è di dare una speranza a tutti i ragazzi che fanno parte di questi quartieri, dei quartieri un po' più particolari della città di Taranto, e quella di creare un sogno attorno a questi ragazzi. Per noi era doveroso partecipare, era chiaramente importante far vedere la nostra presenza e mi auguro che loro possano prendere ad esempio tanti dei nostri calferori per poter avere un domani, un sogno da poter rincorrere. Avevo visitato già questa parrocchia in un altro evento, due o tre anni fa, e mi ero ripromessa di tornare. Con Don Emanuele Ferro c'è stato subito un feeling. Durante il lockdown pensavo molto ai bambini, pensavo ai miei figli che erano in casa con tablet, doppio televisore, pensavo magari ai bambini che potessero avere meno. Mi è venuto in mente il discorso della palla che poteva essere comunque un mezzo di comunicazione perfetto, è sempre stato per i bambini. Durante il lockdown ho elaborato questo evento e siamo venuti qui per donare i palloni e grazie al Taranto Calcio siamo riusciti anche a regalare kit per i bambini che fanno calcio, fanno allenamento, quindi proprio per un messaggio di speranza, di rinascita. Nemmeno il tempo di salutare il nuovo anno che in casa Taranto inizia a prendere forma il mercato di riparazione. I primi movimenti degli ionici riguardano però la casella delle uscite con Antonio Ferrara protagonista. Il terzino campano vero e proprio pezzo pregiato dello scacchiere ionico potrebbe salutare la città bimare già in questa sessione. Come riportato dalla casa di C, sono due le compagini che hanno mostrato gradimento verso Ferrara. Si tratta del Catanzaro di serie C e del Benevento di serie B, che avrebbero bussato alla porta del direttore Montervino per comprendere la posizione della società. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media. Tutto al prossimo notiziario.